salute a tutti il mio nome è mattia prometeo e sono il profeta fatato del giardino che non c'è destinato a salvare il mondo benvenuti in questa nuova puntata del giorno del calendario filosofico e questa è la puntata del giorno 6 marzo e nel calendario filosofico che ho qui in mano se devi farlo fallo oggi bellissima copertina abbiamo questa frase ve la leggo è di Hernan Mamani uomo di Pachamama dal libro la profezia della curandera chi davvero vuole può ma per potere e volere bisogna prima sapere e soprattutto osare professore quale onore avere qui una frase di questa altezza veramente cosa semplicissima un po assiomatica voglio dire te lo dice lui che è così e se tu non sei d'accordo non sei niente non sei nessuno e non vali nulla bellissimo chi davvero vuole può ma per potere e volere bisogna prima sapere e soprattutto osare ora questo mi fa pensare a una discussione che ebbi con un completo idiota che riteneva che la volontà non fosse veramente mai volontà perché in italiano abbiamo la parola velleitario cioè uno può volere qualcosa e fallire se hai fallito non hai veramente voluto la volontà di cui si parla in ambito spirituale e lo ricordo quest'uomo Hernan Mamani è un uomo è un peruviano era un peruviano dedito al culto antico della madre terra cioè quindi proprio parliamo di ambito spirituale netto originale non derivato non era un'americanata la sua spiritualità era quella originale marchio dopo ora all'interno di questi contesti spirituali la volontà l'intento sono realtà dell'animo umano che che trovano per definizione una manifestazione nel mondo materiale con queste parole si indica quella forza interiore che fa agire se non agisci e perché non hai queste cose questa è la volontà di cui si parla certo c'è la velleitarietà c'è nelle nelle culture occidentali in cui i tuoi desideri sono figli dell'ego e il tuo ego è figlio della cultura di riferimento che ti viene a dire che cosa devi volere dalla tua vita e certamente siccome sei stato ingannato dalla società non vuoi veramente quello che ti hanno detto di volere allora non raggiungi l'obiettivo che allora si può essere detto velleitario e questa è sulla prima fase chi davvero vuole può chi davvero vuole può chi ha davvero un intento genuino interiore e interiorizzato ma prendiamo la seconda frase ma per potere e volere bisogna prima sapere e soprattutto osare bisogna prima sapere onestamente io non ho letto la profezia della curandera vi confesso mi confesso siete testimoni delle confessioni di un profeta dovrebbe essere un po al contrario allora ma per potere e volere bisogna prima sapere ma sapere cosa è sapere bisogna conoscere a conoscere cosa ora io non vi ripeto non ho letto il contesto dal quale è estrapolata questa frase ma chiaramente quando penso al sapere spirituale io penso alla conoscenza del sé alla cosiddetta saggezza la saggezza non bisogna fare grandi giri terminologici di definizione la saggezza è la percezione del sé dove invece l'intelletto che non è la saggezza è la capacità di gestire informazioni e allora molto semplicemente quando si tratta di sapere in questa frase non viene per niente in mente la conoscenza accumulata la cultura accumulata tipica dell'intelletto mi viene in mente che qua la parola sapere è in riferimento alla saggezza intesa come percezione percezione del sé della propria interiorità ed ecco bisogna soprattutto osare e bisogna osare anche perché un uomo saggio che ha una chiara percezione del sé e distingue la sua nozione del sé da quella che poi è la cultura e la informazione generale che viene gestita grazie all'intelletto ecco l'uomo saggio sa di non sapere d'altra parte la filosofia greca antica con socrate inizia esattamente con questa frase con la bellissima frase scolpita dall'oracolo di delfi conosci te stesso così saprai poi come diceva socrate so di non sapere perché lui partiva dall'ognotis auton nocete ipsum dell'oracolo di delfi e io conosco così bene non solo perché sono stato all'oracolo di delfi ma perché sono di reggio calabria e il motto dell'antica reggion calabrese guarda un po il caso è lo stesso dell'oracolo di delfi perché secondo il mito la città di reggio è stata fondata dagli argonauti partiti dall'oracolo di apollo a delfi e quindi devi osare devi osare perché se sai di non sapere non sai se la tua volontà si manifesterà veramente quindi volere potere ma tu non sai se riuscirai non sai se quello che vuoi è veramente il tuo intento più interno più interiore più profondo è solo quando inizi ad agire che puoi iniziare a vedere i risultati le conseguenze del tuo volere e allora a sapere a sapere se il tuo volere è volere o è velleitarietà è un giro è un serpente che si mangia la coda certo che è un serpente che si mangia la coda e se no perché il simbolo del serpente che si mangia la coda se no sarebbe se no non sarebbe un simbolo degli alchimisti dei sapienti degli ermeneutici e degli ermetici dei maghi ecco è certo se tu non fai l'esperimento sulla tua volontà come fai a sapere che la tua volontà è la tua vera volontà ecco non voglio dilungare il video questo è quello che mi ha ispirato questa bellissima frase di questo bellissimo sacerdote di Pachamama e miei cari spettatori miei cari psicocriminali miei cari guerrieri di luce se vi è piaciuto il video io come sempre vi chiedo di mettere un mi piace sotto il video di commentare se avete qualcosa da condividere se volete mettervi in contatto con me i link sono giù in descrizione e condividete il video se vi è piaciuto condividetelo soprattutto se non vi è piaciuto io per il resto come sempre vi ringrazio per la visione e vi auguro il meglio è solo il meglio e vi saluto fino al prossimo video ciao